Buongiorno, io sono Marina Rusic, sono parte di Diaspora Serba in Italia, a Firenze, faccio parte di Organizzazione Recraft Serbia, è un cluster di artigianato e con questa mostra abbiamo presentato, diciamo, prima attività svolta a Firenze e la mostra si chiama Con motivo in Viaggio, rappresenta, diciamo, mia parte, il mio viaggio da quando sono venuta qua sette anni fa per studiare. Qua si può vedere come è artigianato, collegato con la creatività e tutto quanto un tragico tra Italia e Serbia e quindi anche come è collegata la gioventù che va dal proprio paese all'estero per motivi di studio e poi ci rimane anche per vivere. Ecco, questa mostra lavora proprio su questa tematica, su giovani che portano i motivi, i oggetti con sé che li fanno pensare proprio a casa. Ciao! Ciao! Benvenuti al progetto S motivom na put. Sono Vesna Rusić, direttore organizzazione Rik Ravs Cluster per la revitalizzazione di Stari Zanati in Srbio. Il progetto è il ministro per l'inostrazione delle persone per la Diaspora Repubblica di Srbio. S motivom na put ha simbologo il naziv, perché noi sempre da l'inizio di Diaspora portiamo qualcosa che si tratta di Srbio. Da li è to motiv u mislima ili da li è to stvarno neki predmet koji treba našemo u Diaspori, to è već stvari ispora. Ja sam danas ovdje predstavnik i u ovom projektu predstavnik Matice. Od 2011. godine sam na relaciji između Firenze i Beograda. Ovaj projekat je kruna svih naših prethodnih projekata od kad smo nastali od 2010. godine. Bili smo prisutni na preko 30 projekata u Srbiji i u regionu i na preko 35 konferencija na internacionalnom nivou da smo predstavnili Srbiju. Koji su ciljevi projekta s motivom na put? Prvi i osnovni cilj je da se istaknu mladi pojedinci u Diaspori. Drugi cilj je da se promoviše naš novi brend Lavuna i možda i jedan cilj iz Prikrajka koji kaže da treba napraviti ekomunu u Srbiji i iznatljena evropsko tržište. Zato smo danas ovdje predstavili masu zelenih prekrivača. Ovima želimo da uvedemo jedan novi normativ u bezbednom skladištenju UNE u skladu sa evropskim regulativama i na našem putu ka Evropskoj Uniji. A sa druge strane želimo da promovišemo kvalitetni proizvod.